Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di Bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno un giorno ovviamente ragazzi facciamo anche subito il giro della ruota vediamo subito chi ha vinto e vince Sammy quindi facciamo subitissimo il giro ecco qui quindi la ruota da fortuna facciamo ovviamente il solito giro vediamo subito cosa ha vinto e vince una skin a scelta dal negozio oggetti in massimo ti ricordo 800 i bugs ti ricordo anche di scrivermi ovviamente su Instagram così ci mettiamo a cordo ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News per andare a vedere anche oggi un bel po' di novità parleremo innanzitutto di una possibile collaborazione tra Fortnite e NBA perché infatti sembrerebbe che qualcosa all'interno dei file di gioco c'è in questa collaborazione parleremo di qualche ricompensa gratis che state riusciate oggi e poi di ben 1200 i bugs gratis per alcuni utenti ma prima di iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina cerchiamo di raggiungere i 300 mi piace vi ricordo tutti i miei social qua sotto nei commenti fissati in alto tra cui Telegram, TikTok, Instagram insomma tutti i social andate a dargli un'occhiata e detto questo però iniziamo subito con tutte le novità per oggi la prima comunque arriva proprio dal negozio oggetti infatti come possiamo vedere l'avamo visto anche in un video previsione infatti il bundle dedicato a Ghostbusters è finalmente ritornato dopo più di un anno nel negozio oggetti quindi potete anche prendere la nuovissima emote come possiamo vedere possiamo anche prendere le skin, backpack, pick on insomma è un set che comunque rimarrà sicuramente per altri 3-2 giorni dato che non tornava comunque da tantissimo tempo un'altra grande novità per quanto riguarda invece il negozio oggetti è il Black Friday perché infatti come possiamo vedere anche per quanto riguarda i bundle specialmente 2 che come possiamo vedere io adesso non vedo l'altro perché l'avevo già acquistato qualche mesetto fa ma ad esempio come possiamo vedere il pacchetto di Lars costa 11,99 euro anziché 15,99 euro e anche l'altro pacchetto mi sembra delle skin della lava costa adesso invece che 15 se non erro pure 7 euro e qualcosa quindi comunque ci sono questi due bundle scontati spero che metteranno comunque anche per quanto riguarda gli altri bundle un prezzo un pochino più scontato perché ad esempio quello del Minty che è a 30 euro magari prendono la 20 quindi speriamo che comunque possano anche ampliare questa offerta su tutti gli altri bundle tralasciando adesso però il negozio oggetti andiamo a vedere invece una bella novità perché parliamo ancora di collaborazioni dopo ne andremo anche a vedere un'altra che vi ho già detto nell'intro che riguarda l'NBA ma abbiamo un'altra infatti come possiamo vedere Ipex dice che intorno alla metà di dicembre quindi ormai saremo già dentro il capitolo 3 avremo una collaborazione con Matrix e le skin che arriveranno sono esattamente queste qui che vedete alla mia destra quindi avremo insomma questo set in collaborazione nel negozio oggetti e come vi dicevo prima non è la sola collaborazione che dovrebbe arrivare infatti come possiamo vedere c'è una collaborazione all'interno dei file di gioco inerente a Fortnite X Jordan precisamente non proprio NBA quindi arriverà prossimamente comunque in gioco come possiamo vedere essa sarà principalmente correlata alla creativa e coinvolgerà una sorta di meccanica del basket quindi potrebbe essere simile insomma al gioco di basket questa modalità e molti oggetti di scena che sono stati attualmente trovati possiamo vedere ad esempio le scarpe c'è anche se non sbaglio altra roba insomma è ancora un attimo un po' da capire questa collaborazione però è stato trovato all'interno dei file di gioco quindi avremo questa collaborazione con proprio Jordan quindi secondo me da questa collaborazione innanzitutto come possiamo vedere all'interno insomma dei file di gioco ci dobbiamo assolutamente aspettare quindi una modalità simile al gioco del basket e poi sicuramente secondo me qualche cosa magari nei negozio oggetti la buttano e poi vedremo se faranno anche qualche sfida con ricompensa gratis magari sarebbe molto carino vedremo comunque parlando però di ricompense gratis vi ricordo che oggi potrete ottenere una nuova emoticon come possiamo vedere infatti la sfida di oggi innanzitutto richiede di pescare pesci pesca praticamente 60 pesci per ottenere quindi 60 punte quindi il deltaplano qualora non l'aveste ancora ottenuto però basterà poi fare solo un punto e vi insomma vi darà anche l'emoticon che come possiamo vedere è quella di questo personaggio qui vi ricordo solo di farlo ovviamente nelle modalità tipo singolo, coppie, talsetti, squadre non vale la creativa e nessun'altra modalità quindi deve essere per forza una di queste che vi ho appena detto passando poi un'altra notizia come possiamo vedere questo è il carrello come ben sapete è tornato infatti su Fortnite insieme pure alla macchina insomma da golf sono tornato un bel paio di cose è tornato il brutto insomma stanno tornando diverse cose tra cui per l'appunto questo carrello che come possiamo vedere con una modifica adesso il tasso di spawn dei carrelli insomma è stato aumentato da 35% al 60% quindi adesso è molto più probabile che lo troviate insomma non so proprio la posizione corretta ma so che forse qualcuno ne spawna sicuramente a corso commercio mentre le altre posizioni ancora non ne ho idea insomma se qualcuno ovviamente li ha trovati ditemelo ovviamente qua sotto nei commenti così insomma aiutiamo un po' tutti a trovare questi carrelli inoltre per chi non lo sapesse mi sono dimenticato di dirlo oggi nel negozio oggetti dal 19 quindi fino al 23 ora una quindi all'ora insomma nel cambio di workshop potrete ragazzi ottenere questa schermata di caricamento che come possiamo vedere è gratuita se non erro costa 0 V-Bucks la potete anche regalare quindi mi raccomando accedete al negozio oggetti e compratevi questa schermata dato che è gratis e avete tempo fino al 23 novembre per ottenerla comunque una schermata un po' strana raffigura delle montagne chi lo sa che magari non è magari un teaser per la mappa al capitolo 3 chi lo sa vedo delle montagne insomma è un po' una schermata che si capisce poco e niente se non per quanto riguarda magari qualche albero e montagna però comunque questa è la schermata inoltre per chi ha visto il video di ieri ah mi raccomando andatelo a vedere se non l'avete ancora visto perché parliamo di un'altra collaborazione sì ce ne sono veramente tantissime riguardante però un altro videogioco parliamo della collaborazione tra Fortnite e Rocket League quindi se non avete visto lo scorso video andatelo a vedere che ci sono le ricompense gratis insomma quindi andate a vederlo che è molto interessante e parlavamo proprio in questo video della scivolata infatti come ben sappiamo andrà cioè la scivolata verrà riasciata insomma nel capitolo 3 infatti come possiamo vedere da questo post sembrerebbe che ci siano ben tre scivolate che possiamo effettuare la scivolata naturale, normale scivolata in pendenza e scivolata di potenza inoltre abbiamo altre informazioni sarete in grado di scivolare in avanti, indietro e lateralmente e poi per iniziare a scivolare dovrete prima raggiungere una certa velocità quindi queste ragazzi sono super informazioni in anteprima di questa fantastica scivolata che dovrebbe comunque sicuramente cambiare un po' diciamo le meccaniche comunque di Fortnite e per questo poi arriveranno nel capitolo 3 perché come ben sapete ogni capitolo ha tantissime nuove meccaniche per esempio il capitolo 1 vediamo le differenze tra il capitolo 1 e il capitolo 2 c'è stata l'aggiunto innanzitutto della meccanica della pesca la meccanica poi anche ovviamente per quello che riguarda le auto insomma come ben sappiamo quindi ogni capitolo ha delle nuove meccaniche una delle prime meccaniche quindi è questa del capitolo 3 ovvero la scivolata inoltre ovviamente vabbè sì certo avremo la nuova mappa tutto quanto e quindi insomma questa diciamo è la prima grande novità possiamo dire svelata dal capitolo 3 quindi e non dimentichiamoci che qualche patch fa comunque avevamo trovato delle nuove costruzioni quindi attenzione nel capitolo 3 potrebbero essere anche queste implementate ve le ricordate le costruzioni che erano state trovate mi sembra nello scorso ancora aggiornamento che non mi ricordo forse al 18.30 vi metto magari l'immagine qui alla mia sinistra comunque avevano trovato queste costruzioni che molto probabilmente potremmo vedere direttamente implementate quindi nel capitolo 3 quindi potrebbe anche cambiare qualcosina per quanto riguarda le costruzioni ecco detto questo ragazzi però passiamo a una news molto importante specialmente per alcuni giocatori infatti ieri sia su tiktok sia su youtube mi avete chiesto in tantissimi io ho acquistato insomma già questo deltaplano che è quello ovviamente che fa parte del set di naruto ma ovviamente una volta che io l'avevo acquistato poi praticamente dopo qualche ora l'avevano reso gratis come ben sapete e quindi praticamente giustamente alcuni hanno speso 1200 bucks per nulla perché poi alla fine lo puoi ottenere gratis e qui finalmente è arrivato il comunicato ufficiale da parte di fortnite che dice sei acquistato il deltaplano kurama che quello per l'appunto è poi stato reso gratis prima del 17 novembre alle 20 e lo hai ricevuto anche all'interno delle sfide quindi mi raccomando anche se l'avete preso dal negozio oggetti fate le sfide perché solamente facendo le sfide se lo avete già comprato prima potrete ottenere i 1200 bucks indietro quindi in poche parole ragazzi si potete ricevere i 1200 bucks indietro che avete speso insomma per questo deltaplano basta solamente che completate ovviamente le sfide per ottenere per l'appunto anche se lo avete già ripeto completate queste sfide per ottenere questo deltaplano gratis non appena avrete fatto queste sfide vi verranno dati indietro i 1200 bucks questo è valido solo perché ovviamente ha effettuato l'acquisto di questo deltaplano prima del 17 novembre alle ore 20 quindi solo per questi giocatori detto questo per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto non dimenticarti di se non l'hai ancora fatto ovviamente di lasciare un bel like di iscriverti al canale con la campanellina e noi ci vediamo domani alle 17-18 come sempre con un nuovissimo video di fortnite news mi raccomando attivate la campanellina perché in questi giorni abbiamo veramente un sacco di leak super interessanti da vedere in occasione ovviamente sia del capitolo 3 che della ovviamente dell'evento finale di questa stagione detto questo ci vediamo domani video su tiktok vi ricordo bello ciao